...associati dei vari mutinati, ce ne sono due particolarmente prestigiosi. Uno è Valente, che appunto è uno dei presidenti, del sato presidente dell'Armi e a cui è stata intitolata al salato dell'Armi. E poi c'è un signore che molti riconosceranno, ed è venuto Mussolini, che è stato ferito ad una gamba, come Garibaldi, e ha fatto richiesta per la pressione di Guadalupe.